Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su MegisopLotus. Oggi abbiamo un video in realtà abbastanza scontato, ovvero il nostro classico meta preview. Un video nel quale cerchiamo di prevedere, per quanto in realtà questo giro sia molto semplice, quello che potrebbe diventare il meta a seguito di una banlist. Ovviamente la banlist in questione è quella uscita venerdì di Centurion. Non è ancora stata aggiornata sul sito, però verrà fatta a breve. In sostanza, la ricordo molto brevemente, ma tanto sicuramente tutti voi l'avrete già vista, avete già visto l'annuncio, Rafin, Diada bannati come comandanti e poi Rofellos e Rowan e Kenrit sbannati come comandanti. Quindi una banlist molto semplice che ci si aspettava, al contrario della prima banlist uscita con le varie force, eccetera, che invece ha sconvolto un po' tutti, ha lasciato un po' tutti i perplessi. Dopo pochissimi giorni in realtà è uscita questa seconda banlist sostitutiva. Vi invito a vedere il video di Mark che parla proprio di questo discorso, di questo cambiamento del documento che hanno postato, delle spiegazioni che hanno dato e che hanno provato a fare capire anche in questo documento e del motivo per cui c'è stato questo switch improvviso per cui prima volevano bannare tutto e poi improvvisamente sembra che abbiano cambiato idea. Vi rimando al video di Mark, lo trovate qua sul canale. Secondo me nel documento che hanno postato si possono vedere molte cose, si possono intuire molte cose e di sapori che probabilmente c'erano già all'interno del comitato. Detto ciò, oggi non mi soffermo su questo argomento, c'è un video dedicato, ma voglio appunto parlare di quello che potrebbe diventare il meta. Allora, il sito di Centuria innanzitutto è stato rinnovato, è molto più bello, hanno fatto un ottimo lavoro e sono stati inseriti i dati del meta sostanzialmente dell'ultimo anno. Ringraziamo anche Valentino che è l'autore di questa raccolta dati che, se non ricordo male, adesso fa parte ufficialmente del team Centurion, quindi sarà poi lui il responsabile della raccolta di dati, che ha fatto questo bellissimo documento nel quale sostanzialmente si segna tutti i mazzi che hanno fatto risultato, quindi hanno fatto top. Qua ci sono ovviamente scritti tutti i parametri da qualche parte. Poi abbiamo tutto il meta segnato della stagione. Se andiamo sul singolo mese, perché sono dei fogli Excel, possiamo vedere invece il meta dell'ultimo mese, quindi vabbè, luglio magari c'è un po' poco, magari guardiamo giugno, ci sono scritti i parametri che ha preso, quindi per esempio tornei con almeno 17 giocatori, con report su Facebook, si conosce meta e top. Top 4, tornei da 17-32, top 8, tornei da almeno 33. Quindi c'è proprio una raccolta vera e propria, consegnati i numeri giocatori, il relativo torneo, relativa data, il numero di mazzi noti, perché può capitare che qualche volta non sia noto un mazzo che c'era in sala, perché magari non ha mandato la lista, eccetera. Poi c'è a fianco tutta una serie di dati relativi invece al singolo comandante, con il link alla carta di Scrypal, quindi per esempio Rafin c'è la carta su Scrypal e il relativo link che ve la apre. Il numero di presenze, le top, la conversione in top, dato veramente molto interessante e molto importante, la percentuale del meta e la percentuale in top. Quindi veramente una raccolta dati fatta molto 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 bene, in modo approfondito, con anche relativi grafici che indicano visivamente la conversione meta top, dei relativi mazzi, quindi un ottimo lavoro e sono molto contento che sia stato incluso nel progetto di Centurion per questo suo lavoro e che sarà lui adesso, credo, il responsabile della raccolta di dati del meta. Tutto questo ovviamente per ringraziarlo del lavoro svolto e per sfruttare il suo lavoro come solo ne sappiamo fare per raccontarvi qualcosa del meta. Allora prenderei appunto quello di maggio-giugno, che magari sono un po' più indicativi, forse maggio è quello che è più indicativo del meta ultimamente, perché già a giugno c'erano dei cambiamenti dovuti al pensiero comune dei giocatori che Rapin fosse bannata e Diada probabilmente anche. Quindi con questo pensiero molti giocatori hanno switchato su altri comandanti e hanno iniziato a testare altro per i nazionali. Questo meta mi sembra invece quello che rispecchia di più quello che sarebbe stato un possibile meta del nazionale di fine anno o dei livelli 2 se preferite con la banlist di allora, quindi di due settimane fa circa. Ovviamente Rapin e Diada erano i tier 1 del formato, ci si aspettava 100% questo ban, era il ban che ci si aspettava prima di tutto questo pasticcio del blu, delle force, eccetera. È stato alla fine confermato, in realtà venerdì hanno detto che sono bannati questi due comandanti, l'abbiamo detto già in più video, a nostro parere è comunque un ban corretto, Rapin dominava nel meta già da tempo e Diada oggettivamente sarebbe diventato un problema troppo grande da gestire dopo il ban di Rapin e con un calare di uno dei mazzi principali che gli facevano da Eid. Detto ciò, fatta questa premessa, come diventerà il meta? Allora, qua vediamo come mazzi, tolto Rapin e Diada che ovviamente non ci saranno, vediamo come mazzi principali Ogak, Geist, Asmo, Atraxa, Oloro, Grist e poi vabbè abbiamo Sai, Zika e un po' la qualunque che forse, forse, se vi apro qua, viene rappresentata un po' meglio. Così abbiamo proprio la season, vedete la prevalenza appunto di Rapin Diada in tutta la stagione e poi subito dopo Ogak. Allora Ogak, Ogak a mio parere sarà un mazzo che calerà. Perché? Il mazzo è scarso? No, assolutamente non è scarso. Il mazzo però era una metacall o comunque molti giocatori hanno scelto di portarlo come metacall molto forte per ovviare a un problema di Rapin, quindi di un mazzo tempo con il quale aveva un matchup discreto, Ogak, aveva un bel matchup e un meta comunque che stava diventando tempo e spesso e volentieri anche aggressivo. Ogak si prestava molto bene contro questi mazzi perché comunque aveva la facoltà di proporre un 8-8 turno 2 che diventa oggettivamente ingestibile se entra nel campo di battaglia per questi mazzi. Comunque fanno molta fatica a toglierlo, quando lo tolgono lo rigiochiamo. Era un bel palo. Perché prevedo però un calo di Ogak? Prevedo un calo di Ogak perché prevedo, dall'altra parte, un grosso aumento, un grosso spike di Grist. Grist era il mazzo più giocato o comunque uno dei più giocati prima dell'avvento, se così vogliamo chiamarlo, di Rapin e Diada. Ha avuto un calo significativo di prestazioni proprio per questi due comandanti che sono due matchup per niente belli. Rapin comunque è un mazzo a tempo che ti porta via il comandante essendo appunto Blaze Walker con una facilità estrema. Diada è un mazzo che propone cose veramente rottissime, molto in fretta. Ha la possibilità anche di reanimarle. Tipologia di mazzo che tendenzialmente per un Grist, quindi un midrange, un aggro midrange più forse midrange, non è per nulla facile da gestire. Questo aveva sostanzialmente fatto portare più Ogak che Grist ai giocatori di PG. Cioè molti giocatori, ex giocatori di Grist hanno detto va bene, switchiamo a Ogak perché nel meta sta meglio. Con il band di Rapine e Diada il discorso secondo me sarà del tutto opposto. Quindi un aumento di Grist che andrà a diventare probabilmente di nuovo tier 1 del formato e una diminuzione di conseguenza di Ogak che rimarrà comunque un mazzo giocabile, un mazzo che potrete trovare tranquillamente nelle sale ma non più, secondo me, uno dei mazzi più giocati. Ecco, diciamo così, un tier 1 assoluto. Mentre Grist sicuramente lo sarà. Poi abbiamo Geist. Geist è un tier indiscusso, probabilmente aumenterà anche lui sempre a seguito del band di Rapine. A seguito del band di Rapine i giocatori tempo che apprezzano questo tipo di mazzo, questa tipologia di mazzi, switcheranno su altri comandanti e Geist è sicuramente uno dei primi candidati. Quindi anche qui avremo un aumento in sala dei Geist è praticamente inevitabile. Poi abbiamo un Oloro. Allora, Oloro in realtà rappresenta un po' un'incognita, secondo me. Oloro era un mazzo ottimo nel meta, veramente ottimo, perché aveva la possibilità di avere un matchup molto buono con Diada, grazie al fatto che è comunque molto buono, comunque positivo, tendenzialmente, con Diada, grazie al fatto che era un controllone a base blu e tendenzialmente quindi la tipologia di mazzo che atea molto bene Diada. Allo stesso tempo aveva, grazie alla sua possibilità di guadagnare due vite a turno in upkeep ogni turno senza nemmeno castarlo, ottimi matchup negli agro e anche un grosso aiuto con mazzi come per esempio Rapine, Geist, quindi mazzi tempo in generale, perché riduceva drasticamente la loro race, comunque riguadagnare due vite a turno è importante. Cosa penso succederà a Oloro? Io penso che sarà in leggera diminuzione, o meglio, il mazzo sarà ancora giocato, secondo me entrerà in ballottaggio con Tivit, però la scelta di Oloro sopra Tivit potrebbe essere dovuta al cambiamento che ci sarà nel meta, o meglio, se il meta virerà su un meta più aggressivo, quindi per esempio con Rograk Jeska, scusatemi, Rograk Yoshimaru o Jeska Yoshimaru che sia in aumento o cose di questo tipo, Oloro potrebbe essere una scelta più solida. Al contrario, se il meta dovesse virare su un meta più midrange controlloso, potrebbe essere Tivit una scelta valida, perché comunque è un comandante che si protegge da solo, è un 6-6 che imposta anche una race, insomma, potrebbe essere una scelta valida. Quindi a mio parere, Oloro, leggero calo con un leggero aumento di conseguenza anche di Tivit che potrebbe essere tornare un pochino sui tavoli. Comunque non una diminuzione drastica del tipo Oloro non ci sarà più, questo assolutamente no. Poi abbiamo Asmo che secondo me invece rimarrà costante, più o meno rimarrà nella stessa percentuale, era un mazzo molto giocato, molto presente. I bandi raffine di Ada non lo indeboliscono e non lo rafforzano, a mio parere, nel senso che comunque era già un mazzo aggressivo presente prima dell'avvento di raffine di Ada ed è rimasto anche con loro. Quindi a mio parere tornerà a essere l'Asmo che c'era una volta, tornerà a essere giocato, cioè rimarrà in realtà giocato più o meno nella stessa percentuale. Poi abbiamo Tasigur, Tasigur aveva avuto un momento di dubbio, nel senso che aveva un matchup con Di Ada molto dipendente dai counter, però a differenza di mazzi come Oloro che sono molto molto drogo, molto controllosi, Tasigur voleva impostare una race un po' più tempo, un po' più con un clock più forte, magari facendo Griselbrand, quindi in realtà Di Ada era un matchup che sì, se avevamo il blue lo potevamo gestire molto bene, però a volte ci scappava il ciccione di turno e facevano più fatica a gestirlo rispetto che, ripeto, Oloro di turno che aveva accesso anche al bianco, quindi magari poteva esigliarlo, eccetera. Con Rafin aveva un matchup anche qua un po' dubbio, molti giocatori si sono settati, Marco giocava a Tasigur in metà Rafin e si era settato proprio per battere Rafin inserendo carte molto meta, delle carte che erano molto delle meta call come per esempio Shouldered, cose di questo tipo, molto incentrate sul battere Rafin e sull'aspettarsi molti Rafin sul tavolo. Quindi in realtà grazie a queste tech e alla possibilità di avere tre colori quindi una grossa come dire versatilità era riuscito a rimanere bene o male nel meta. Ovviamente adesso senza Rafin di Ada che erano un po' incerti tornerà secondo me leggermente più forte di prima perché potrà tornare a una lista magari meta meno meta collizzata scusate scusate la parola strusa e giocarla un po' più tranquillamente anche se vedremo dopo ci saranno dei comandanti molto molto recenti che si potranno imporre anche su Tazigur comunque Tazigur potremmo dire anche lui abbastanza costante Grist ne abbiamo parlato prima sicuramente tornerà a essere un tier 1 poi abbiamo Magda Magda anche lei secondo me rimarrà più o meno nella stessa percentuale la vedo un po' come Asmo cioè un mazzo che c'era prima è rimasto bene o male verrà giocato ancora sinceramente i matchup di Rafin e di Ada non li conosco benissimo contro Magda però posso supporre che Rafin aveva abbastanza poteva toglierla abbastanza facilmente impostare una buona race quindi poteva non essere un matchup rosa in certe situazioni mentre se impostavamo noi la race ed eravamo molto aggressivi il matchup diventava subito positivo quindi potrebbe essere in realtà un 50-50 tranquillamente contro Di Ada era una partita che andava più spinto noi dovevamo vomitare tutto nel board e sperare che non ci facesse Griselbrand turno 2 turno 3 o giocate molto rotte se ci riuscivamo probabilmente la partita si poteva vincere se ci rianimavano Griselbrand turno 2 vabbè va bene così andiamo a G2 quindi Magda più o meno costante poi abbiamo Atraxona Atraxona un comandante secondo me fortissimo che si stava imponendo già nel meta di Rafin e Di Ada ma che troverà ancora più spazio secondo me grazie alla sua versatilità nel meta di adesso in realtà i matchup non erano brutti Rafin e Di Ada erano assolutamente gestibili da Atraxona però questi mazzi qua mappazione controllone con una versatilità del genere quattro colori di solito sono talmente tanto adattabili al meta che non hanno paura di un cambiamento del meta è difficile che ce l'abbiano perché si possono adattare con una facilità estrema hai quattro colori hai un pool di carte infinito a disposizione giochi a seconda del meta quello che ritieni opportuno quindi Atraxona anche lei rimarrà tranquillamente poi abbiamo Gearson che potrebbe invece tornare un pochino più su dopo il ban di Rafin e Di Ada il comandante è abbastanza aggressivo a volte un po' chiodoso un po' lento bisogna vedere se la scelta delle persone cosa come sarà se sarà quella di optare su altri mazzi come per esempio Aragorn e cose di questo tipo se vogliono giocare blu rosso in realtà in generale oppure un mazzo un po' più aggressivo che si protegge da solo come Gearson quindi Gearson in realtà anche lui più o meno rimarrà sullo stesso piano e poi vabbè ci sono tutta un'altra serie di mazzi Esika Nicole Bolas Elmilster Golos mi sento di dire giusto due parole su Solo Wingress in realtà questa tipologia di mazzi in generale come per esempio l'ho perso Titania Solo Wingress quindi Lenz in generale potrebbe tornare un po' su anzi a mio parere tornerà su perché avevano un matchup con Diada molto pesante perché ci rianimavano ci facevano dei ciccioni ingestibili molto in fretta quindi non stavano benissimo da questo matchup con Rafin faceva una fatica a impostare una race perché comunque Solo Wingers doveva entrare e loro facendo le giocate tempo fortissime allo stesso tempo ci aggredivano quindi i Lenz non erano in un periodo roseo così come i midrange classici quindi mi aspetto una risalita abbastanza forte anche di questi mazzi qua che torneranno sui tavoli molto più presenti includo un po' tutto il pacchetto quindi i Lenz in generale tra cui Solo Wingers e i midrange in generale come potrebbero essere anche mazzi come Croxa o cose di questo tipo che a mio parere torneranno più forti di prima metto solo un attimo il punto sulla situazione su un comandante che sta scusatemi ma sta lagando un po' il mouse che si stava già imponendo che è Aragorn Aragorn ovviamente ne guadagnerà da questo ban a mio parere non è che ne guadagnerà in senso stretto perché si troverà in un meta più favorevole ma ne guadagnerà perché tanti giocatori di Rafin probabilmente potrebbero decidere di passare ad Aragorn per giocare un mazzo tempo o più controllo lì poi bisogna vedere la lista ci sono varie scelte e simile tra virgolette come power level a quello di Rafin quindi potrebbe aumentare sensibilmente a seguito del ban di Rafin più per un discorso di switch dei player che per una meta call o comunque una situazione del meta sicuramente Aragorn però aumenterà era già tantissimo presente quindi in realtà aumenterà rispetto alla stagione 11 nel complesso che sembra che siano pochi ma negli ultimi mesi era già moltissimo presente il comandante è recente si stava provando se è andata al nazionale di turno mi aspetto diverse copie di questo mazzo probabilmente un nuovo Tiger 1 per quanto riguarda il resto direi che teniamo non mi soffermo sogno di mazzo perché non finiamo più teniamo in considerazione questo pacchetto generale comunque Rafin Diada bannati mazzi aggro più o meno stabili quindi rimarranno più o meno sulla stessa linea a mio parere mazzi controllo anche loro secondo me più o meno stabili però un aumento dall'altra parte dei mazzi midrange e lens se vogliamo considerare una categoria di mazzi a seguito di due matchup negativi che sono stati tolti dal meta detto ciò ovviamente vi ringrazio per aver seguito fino qua questo video spero che vi sia piaciuto non mi posso soffermare su tutti i mazzi quindi portate pazienza ci sarebbero tante altre cose da dire si potrebbero parlare si potrebbero parlare anche dei combo come Rograk Tevesh quindi dei combo puri insomma vi rimando per tutte queste riflessioni alle nostre live nel quale approfondiamo questi argomenti seguiteci su telegram sui nostri canali per sapere quando sono ne facciamo circa tre a settimana e sicuramente ce ne sarà una dedicata anche al centurion in cui approfondiremo questi argomenti detto ciò grazie ancora fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e se avete apprezzato questo video se avete delle critiche invece sono ben accolte sempre qua nei commenti fateci sapere tutto vi saluto ragazzi e alla prossima volta